Presidente, devo concludere? Concludo, Presidente, dicendo semplicemente questo. Il provvedimento dimostra una volta di più come la politica sia totalmente assoggettata ai poteri forti che afferiscono al mondo della finanza, mentre abbia smesso di rappresentare le istanze provenienti dalla stragrande maggioranza dei cittadini. Grazie. Grazie a lei. Allora, i restanti iscritti a parlare hanno rinunciato e quindi possiamo passare ai pareri. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno. Se lei vuole, sottosegretario Zanetti, posso leggerli io con il numero e il firmatario e lei mi dice... Grazie, Presidente. Allora, il numero uno è Planger. Accolto, ma come raccomandazione. Il due è stato ritirato. Il tre, Paglia. Parere favorevole. Quattro, Agostinelli. Accolto, ma come raccomandazione. Di Battista, numero cinque. Parere contrario. Alberti, numero sei. Parere contrario. Baroni, numero sette. Accolto, ma come raccomandazione. Basilio, numero otto. Parere favorevole. Battelli, numero nove. Parere contrario. Benedetti, numero dieci. Parere contrario. Undici, Bernini, Massimiliano. Parere contrario. Dodici, Bernini, Paolo. Parere contrario. Tredici, Buonafede. Parere favorevole. Quattordici, Brescia. Parere contrario. Quindici, Busto. Parere contrario. Sedici, Cancelleri. Parere contrario. Diciasette, Cariello. Parere contrario. Diciotto, Carinelli. Accolto, ma come raccomandazione. Diciannove, Caso. Accolto, ma come raccomandazione. Venti, Castelli. Accolto, ma come raccomandazione. Ventuno, Cecconi. Accolto, come raccomandazione. Ventidue, Chimienti. Accolto, come raccomandazione. Ventitré, Ciprini. Parere favorevole. Ventiquattro, Colletti. Parere contrario. Venticinque, Colonnese. Parere favorevole. Ventisei, Cominardi. Parere contrario. Ventisette, Corda. Parere favorevole. Ventotto, Cozzolino. Parere favorevole. Ventinove, Davilla. Parere favorevole. Trenta, Dadone. Parere favorevole. Trentuno, Daga. Parere contrario. Trentadue, Dallosso. Parere contrario. Trentatré, D'Ambrosio. Parere contrario. Trentaquattro, De Lorenzi. Parere contrario. Trentacinque, De Rosa. Parere contrario. Trentasei, Del Grosso. Parere contrario. Trentasette, Dallosso. Parere contrario. Trentotto, dell'Orco. Accolto, ma come raccomandazione. Trentanove, Dallosso. Trentanove, Benedetto. Si propone riformulazione nel senso di sopprimere le parole con cadenza trimestrale. Con questa riformulazione, parere favorevole, altrimenti contrario. Bene. Quaranta, Di Maio, Luigi. Accolto, ma come raccomandazione. Quarantuno, Di Stefano Maglio. Parere favorevole. Quarantadue, Dieni. Parere contrario. Quarantatré, Dincà. Parere favorevole. Scusi, favorevole. 44, inammissibile. 45, inammissibile. 46, inammissibile. 47, inammissibile. 48, Frusone. Accolto, ma come raccomandazione. 49, Gagnarli. Parere contrario. 50, Gallinella. Parere contrario. 51, Luigi Gallo. Parere contrario. 52, Silvia Giordano. Accolto, ma come raccomandazione. 53, Grande. Accolto, ma come raccomandazione. 54, Grillo. Accolto, ma come raccomandazione. 55 Labbate Accolto ma come raccomandazione 56 Luzzi Parere favorevole 57 Lombardi Parere favorevole 58 Inammissibie, 59 Inammissibie, 60 Inammissibie, 61 Inammissibie, 62 Inammissibie, 63 Inammissibie, 64 Inammissibie e 65 Nuti Accolto ma come raccomandazione 66 Parentela Parere favorevole 67 Pesco Parere contrario 68 Petraroli Parere favorevole 69 Pisano Parere favorevole 70 Rizzo Parere favorevole 71 Romano Paolo Nicolò Accolto ma come raccomandazione 72 Ruocco Parere favorevole 73 Sarti Parere favorevole 74 Scagliusi Si propone la riformulazione nel senso di sopprimere la parola annuale con questa riformulazione parere favorevole altrimenti il contrario Bene, 75 Sibilia Accolto ma come raccomandazione 76 Spadoni Parere favorevole 77 Spessotto Parere favorevole 78 Terzioni Parere contrario 79 Tofalo Accolto ma come raccomandazione 80 Toninelli Presidente, tutti i successivi accolti come raccomandazione tranne l'86 parere contrario Bene, allora Siamo dunque al primo ordine del giorno Onore Planga è raccolto come raccomandazione, va bene? Ok Onorevole Paglia è accolto, va bene? Ok Agostinelli raccomandazione Bene Di Battista parere contrario Lo votiamo Votiamo il numero 5 di Battista con il parere contrario del Governo La votazione è aperta Colleghi, ovviamente attendiamo la prima votazione e poi vi prego di rimanere in aula perché votiamo a seguire Intanto Oddio, sono pure inquadrato, non mi fate rire così Non mi fate rire così Non mi fate rire così Grazie.